Quanto tempo passa tra un incontro con voi, con Dpixel, e un eventuale finanziamento? Diciamo che dal primo contatto, che può essere un evento tramite il sito, per email, o in qualsiasi altro modo, fino all'arrivo dei soldi in banca, si parla di sei mesi. Diciamo che quattro o sei mesi è quello che abbiamo visto per ora. Sembra tanto, ma negli Stati Uniti è più o meno la stessa cosa, se non più lungo, per i fondi di Venture Capital. Poi è chiaro che qualche business angel, se si innamora del team, dell'idea, in dieci giorni può fare arrivare i soldi in banca. Però con noi c'è tutto un processo di primo incontro, presentazione poi al nostro partner meeting, secondo incontro con qualche partner nel fondo per vedere se è una cosa approfondibile. In seguito si firma un term sheet dove si iniziano a stendere le prime clausole, valutazione, quantità di investimento. E poi in seguito c'è tutta la parte di due diligence, in cui si fa due diligence soprattutto sul team, poco sull'idea e abbastanza sul mercato. Quindi questa parte prende più o meno tre mesi, in cui si vede anche un po' come lavorano in questo periodo le persone. Quindi sei mesi diciamo che è quello che uno dovrebbe preventivare prima di iniziare con San Andreas.